Buonasera e benvenuti, vi chiedo ancora qualche minuto di pazienza, intanto grazie a tutti di essere qui, di esservi già accomodati, dobbiamo far entrare ancora un po' di persone, quindi abbiamo, strano, perché di solito siamo puntualmente, siamo svizzeri nella nostra puntualità, ma abbiamo qualche minuto di ritardo per permettere alle persone che stanno arrivando di accomodarsi. La conferenza di questa sera ha riscosso un grandissimo successo di pubblico, siete numerosissimi, quindi vi ringraziamo di questo e vi chiediamo ancora qualche istante, quando tutti saranno entrati daremo inizio alla nostra conferenza, alla Lectio Magistralis. A fra poco! Grazie! 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 che posti a sedere non ce ne sono più e quindi noi possiamo cominciare, benissimo. Vi chiedo un attimo di attenzione anche se state facendo le operazioni di imbarco, anche se siete al check in, noi siamo pronti per dare l'inizio a questo nuovo incontro di segnavie, orientarsi nel mondo che cambia, il ciclo di conferenze organizzato da Fondazione Cassa di Risparmio di Padova Erovigo. Vi do nuovamente il mio buonasera, sono Francesca Trevisi, il mio compito è semplicemente quello di introdurre l'incontro di questa sera e di darvi alcune informazioni utili perché voi possiate seguire al meglio questa conferenza. Siamo al quarto anno di segnavie, segnavie comincia già ad avere una storia, quest'anno il tema era la rottura degli schemi, la rottura del pensiero tradizionale e quindi abbiamo in questo senso già incontrato il professor San Giovanni Vincentelli che ci ha parlato di innovazione, abbiamo incontrato il professor Anushek che ci ha parlato invece di istruzione e questa sera è davvero un onore avere qui a Padova, qui con noi, il professor Frizio Capra che ci parlerà di pensiero sistemico, di sostenibilità ambientale e di qualità della crescita. Titolo della conferenza di questa sera, la rete della vita, sostenibilità, crescita qualitativa e pensiero sistemico. prima di dare il via alla lezione magistralis io vorrei invitare qui sul palco il presidente della fondazione Antonio Finotti che mi raggiunge per darci il suo saluto. Grazie presidente, buonasera e benvenuto nel Lago Rà del Centro Culturale San Gaetano. Buonasera. Presidente, ci vuole ricordare il ruolo della fondazione nel sostenere iniziative di promozione culturale quale è Segnavie? Dottoressa Trevisi, grazie, grazie per la sua presentazione, un saluto cordiale ai gentilissimi ospiti così numerosi questa sera, un qualche cosa che ci inorgoglisce e che ci fa immenso piacere. Lei fa riferimento alle attività culturali del nostro ente. Ovviamente la fondazione si occupa di arte e di cultura con estrema attenzione e dedicando anche a questo proposito risorse importanti. Sosteniamo progetti come è noto che ci sono presentati da terzi, diciamo da enti in particolare, associazioni, ma abbiamo anche progetti che sono ideati da noi, che sono promossi da noi direttamente. Vorrei ricordare con poche battute qualcosa che abbiamo fatto e che stiamo facendo. Mi vengono in mente così anche perché è un avvenimento recente che si è concluso a Padova alcuni mesi fa. L'attività espositiva, cioè la mostra del Bembo che ha portato in città a Padova 100.000 visitatori, un bel risultato. Poi potrei aggiungere ad esempio iniziative che si sono concretizzate di recente e che riguardano i giovani, visto che stasera poi abbiamo un pubblico che è molto giovane e che ci fa tanto piacere. Siamo partiti con la seconda edizione del Bando Culturalmente, riservato proprio a imprese culturali gestite da giovani. Un primo Bando è andato molto bene, con molte richieste ed è appunto sull'abbrivio di questo primo risultato che la Fondazione ha deciso di dare avvio a un secondo Bando a questo proposito. È partito proprio anche nelle settimane scorse, sempre con riferimento all'impresa culturale ma in una dimensione anche più articolata, il Bando Fander 35, organizzato con la partecipazione di nove fondazioni bancarie e anche in questo caso con dei risultati soddisfacenti. Tre anni fa la Fondazione ha anche pensato così di portare un contributo a un dibattito del quale si sente via più il bisogno in un momento di crisi, in un momento di situazione estremamente complicata a livello planetario e abbiamo dato vita così con qualche incertezza, anche con qualche patema d'animo al progetto segna via che lei ha voluto ricordare. Siamo arrivati al quarto anno, questo vuol dire che le cose sono andate bene e hanno confortato la Fondazione nel procedere a questo proposito, abbiamo trattato temi i più diversi che non voglio ricordare anche per non sottrare tempo perché siamo tutti ansiosi di sentire la lezione magistralis che il professor Capra sarà a presentarci questa sera. Quest'anno è la terza conferenza, lei ha già ricordato le due precedenti, la notorietà del gentilissimo ospite basta da solo e praticamente è spiegata anche la presenza così numerosa questa sera. Siamo tutti ansiosi di sentirlo, lo dicevo prima così confidenzialmente al professore, è un fisico, è un saggista, è filosofo, è un personaggio che dobbiamo ascoltare e che ascolteremo certamente con tanto interesse e con tanta attesa perché l'attesa è molta a questo proposito, in un mondo che cambia, in un mondo così complesso, in un mondo così difficile, un personaggio di questa statura che poi associa anche una felice combinazione perché è nato in Europa, diciamo pure vicini anche a noi, perché è nato a Innsbruck in Austria ma che ormai da molti decenni vive in America, quindi ha una visione diciamo pure pressoché completa del mondo, ecco quindi anche da questo punto di vista l'attesa credo è molta e quindi non vi rubo altro tempo, vi ringrazio nuovamente per la vostra partecipazione così numerosa e vi auguro buon ascolto. Di nuovo grazie a tutti. Grazie Presidente, allora ugualmente non vi porterò via molto altro tempo, vi ricordo solo che essendoci anche molti giovani possiamo seguire la conferenza in modalità social, quindi possiamo twittare hashtag segnavie, condividere foto o commenti sulla pagina Facebook e quindi trovate naturalmente digitando segnavie potrete entrare nella fanpage e per chi non ha potuto venire qui questa sera potete seguire questa conferenza sul sito www.segnavie.it a partire dalla settimana prossima. Allora molti di voi conoscono già la storia del professor Capra, quindi ricorderò solo il suo libro più importante che è il Tao della fisica del 1975 che ha aperto veramente, ha squarciato l'orizzonte per quanto riguarda i rapporti fra la fisica occidentale e il pensiero orientale, è autore di numerosissimi altri best seller, ricordo solo l'ultimo lavoro che è l'anima di Leonardo e a questo punto non ci resta che presentarvelo e quindi che invitarlo qui sul palco e quindi signore e signori accogliamo con un applauso il professor Frizzio Capra. Grazie. Buonasera. Buonasera. Buonasera professore. Grazie. Professore, so che è la sua prima volta a Padova o era già stato a Padova? Prima devo dire che, come avete sentito, sono astriaco e parlo un po' italiano, però mi dispiace, non posso fare la lezione in italiano. è la prima volta che sto a Padova, ma ho conosciuto l'università di Padova da quando avevo 16 anni, quando ho letto una biografia di Galileo e parlavano del bo. e allora questa parola, il bo, già ho conosciuto quando sono stato in scuola e forse ha giocato un po' perché ho scelto la fisica. Dunque c'è quella connessione con Padova intellettuale che mi ha messo su questa via di diventare scienziato. Ci inorgoglisce molto questo e quindi la ringraziamo di cuore e la lasciamo adesso alla sua lezione. Grazie. Grazie. So I will have to continue in English. Since I had this connection with the University of Padova since my childhood, and of course I often read about the University of Padova in my studies, for instance, not only Galileo taught mathematics here, but William Harvey, who discovered the circulation of blood, was a student, actually at the same time that Galileo taught mathematics. So some of the greatest scientists came from Padova. so this morning I went to the University of Padova, and it was a very emotional experience for me, and at the same time, as you probably know, this was the day when they celebrated the laurea, as they say here, the end of the studies, and it was very moving for me to see these graduates with their beautiful wreaths and their parents and families congratulating them in a very joyful day. At the same time, I could not help having some rather somber thoughts when I watched them, because I asked myself, what is the world they are going out into? In other words, what kind of world have we, the older generation, prepared for them? And of course you all know the answer, it's a world of global crisis. So wherever they go, whether these graduates are medical doctors or engineers or philosophers or scientists, they will have to deal with the various aspects of this global crisis. And in particular, they will have the environmental crisis, the concern about the environment, foremost in their minds. science. The great challenge of our time is to build and nurture sustainable communities, that is, social, cultural and physical environments in which we can satisfy our needs and aspirations without diminishing the chances of future generations. This is the classical definition of sustainability, but since its introduction in the early 1980s, this concept has often been distorted, co-opted, and even trivialized by being used without the ecological context that is proper. So I think it is worthwhile to reflect for a moment about what sustainability really means. What is sustained in a sustainable community is not economic growth or competitive advantage. What is sustained is the entire web of life on which our long-term survival depends. In other words, a sustainable community is designed in such a way that its ways of life, its businesses, economy, technology, physical structures, and so on, do not interfere with nature's inherent ability to sustain life. You see, nature has sustained life for over three billion years, and we must not interfere with with these processes. Now, the first step in this endeavor, naturally, is to understand how nature sustains life. It turns out that this involves a whole new ecological understanding of life, as well as a new kind of thinking. thinking. Thinking in terms of relationships, patterns, and contexts. And this is the systemic thinking in the title of my lecture. And indeed, such a new understanding of life has emerged over the last 30 years or so. So, at the forefront of contemporary science, the universe is no longer seen as a machine composed of some basic building blocks. We have discovered that the material world, ultimately, is a network of relationships. We also have discovered that the planet as a whole is a living, self-regulating system. The view of the body as a machine and of the mind as a separate entity is now being replaced by one that sees not only the brain, but also the bodily tissues, and even each single cell as a living, cognitive system. Evolution is no longer seen as a competitive struggle for existence, but rather as a cooperative dance, in which creativity and the constant emergence of novelty are the driving forces. And with the new emphasis on complexity, networks, and patterns of organization, a new science of qualities is now slowly emerging. Well, to go into the details of this very short summary, I would have to teach a whole course of maybe a year or at least half a year. And I teach these courses, and in fact, I spent the last five years writing a textbook called The Systems View of Life for Universities. I wrote it with a colleague of mine, a biologist at the University of Rome, Pierluigi Luisi, and it will be published next year in January by Cambridge University Press. So here I can give you only some of the highlights of this systemic understanding of life. Well, one of the most important discoveries is the recognition that networks are the basic pattern of organization of all living systems. As you know, ecosystems are understood in terms of food webs, that is, networks of organisms. organisms are networks of organs, of tissues, of cells, and cells are networks of molecules. And then there are social networks, which, as you know, are networks of communications. So the network is a pattern that is common to all life. wherever we see life, we see networks. And since a network is a particular pattern of relationships, it is evident that to understand life in terms of networks, we have to learn how to think in terms of relationships and in terms of patterns. And this is what is known as systemic thinking in science. It is crucial for ecology because ecology, derived from the Greek word oikos, meaning household, ecology is the science of the relationships of various members of the Earth household. Now, when we apply this new conception of life to studying the structures, metabolic processes, and evolution of the myriads of species on the planet, we notice immediately that the outstanding characteristic of the biosphere is that it has sustained life for billions of years. How does the Earth do that? How does nature sustain life? Well, to understand how nature sustains life, we need to move from biology to ecology because sustained life is a property of an ecosystem rather than a single organism or species. Over billions of years of evolution, the Earth's ecosystems have evolved certain principles of organization, or principles of ecology, to sustain the web of life. Knowledge of these principles of ecology is what I call ecological literacy. It is crucial for designing sustainable human communities. In the coming decades, the survival of humanity will depend on our ecological literacy, on our ability to understand the basic principles of ecology and to live accordingly. This means that eco-literacy must become a critical skill for politicians, business leaders, and professionals in all spheres, and should be the most important part of education at all levels, from primary and secondary schools, to universities, and to the continuing education of professionals. We need to teach our children, our students, and our corporate and political leaders, if you wish, the basic facts of life. For example, the fact that in an ecosystem, one species waste is another species food. So that matter cycles continually through the web of life. That the energy driving these ecological cycles flows from the sun. That diversity assures resilience. And that life from its beginning, more than three billion years ago, did not take over the planet by combat, but by networking. These are all important lessons we need to learn from nature. And when we do that, when we become ecologically literate, understanding the processes and patterns of relationships that enable ecosystems to sustain life, then we will also understand the many ways in which our human civilization, especially since the Industrial Revolution, has ignored these ecological patterns and processes and has interfered with them. And we will realize that these interferences are the fundamental causes of many of our current problems. It is now becoming more and more evident that the major problems of our time, energy, the environment, climate change, poverty, cannot be understood in isolation. They are systemic problems, which means they are all interconnected and interdependent. The fundamental dilemma underlying all these problems seems to be the illusion that unlimited growth is possible on a finite planet. This irrational belief in perpetual economic growth amounts to a clash between linear thinking, projecting outwards in a straight line, and the nonlinear patterns, the cycles and loops that we observe in the biosphere. This highly nonlinear global network contains countless feedback loops through which the planet balances and regulates itself. Our current economic system, by contrast, is fueled by materialism and greed that do not seem to recognize any limits. Now, the illusion of perpetual growth is maintained by economists who refuse to include social and environmental costs in their economic models. And consequently, there are huge differences between market prices and the true costs. For example, for fossil fuels. This is especially noticeable in the United States, where I live, where the gasoline or petroleum costs about half what it costs in Europe. And of course, what you pay for gasoline at the pump does not include the costs of the war in Iraq or the war in Afghanistan or the costs of climate change and climate refugees. All those are consequences of the fossil fuels. But the costs are not included in a market price. So there is a massive market failure that we can observe here. As you know, economic and corporate growth are the driving forces of global capitalism, a new type of capitalism that is the dominant economic system today. At the center of the global economy is a network of financial flows which has been designed without any ethical framework so that investors and speculators can put their money within seconds into any kind of project anywhere around the world. And whether this exploits workers or destroys the environment or is unhealthy is never taken into consideration. In fact, social inequality and social exclusion are inherent features of economic globalization, widening the gap between the rich and the poor and increasing world poverty. In this economic system, perpetual growth is pursued relentlessly by promoting excessive consumption and a throwaway economy that is energy and resource intensive, generating waste and pollution and depleting the Earth's natural resources. This fatal dynamic is increasingly being recognized today. Last year, the 18 past winners of the Blue Planet Prize, which is the kind of unofficial Nobel Prize for the environment, these past 18 winners prepared a joint paper for the Rio Plus 20 Summit. And these authors include eminent experts on energy and climate change like Lester Brown, Amory Lovins or James Hansen. And in their paper, they write the following, the perpetual growth myth promotes the impossible idea that indiscriminate economic growth is the cure for all the world's problems, while it is actually the disease that is at the root cause of our unsustainable global practices. So it seems to me that our key challenge is to shift from an economic system based on the notion of unlimited growth to one that is both ecologically sustainable and socially just. Now, some people say, well, we have to stop growth. So no growth. But I don't think that's the answer, because growth is a central characteristic of all life. A society or economy that does not grow will die sooner or later. However, growth in nature is not linear, nor is it unlimited. While certain parts of organisms or ecosystems grow, other parts decline. And when they decline and disintegrate, they release their components, which are recycled for new growth. This kind of balanced, multifaceted growth is well known to biologists and ecologists. And I have proposed to call it qualitative growth. To contrast it with the concept of quantitative growth used by today's economists. And I want to show you how the principles of qualitative growth can be applied to move toward a sustainable future. Now, most economists today still measure a country's wealth in terms of its gross domestic product or GDP. In which all economic activities associated with monetary values are added up indiscriminately, while all non-monetary aspects of the economy are ignored. So, social costs like those of accidents, wars, litigation or healthcare are all added to the GDP as positive contributions to the economy. And then economists say, this is good for the economy, this is a healthy economy. Even if there are very unhealthy and destructive processes. So, the idea that GDP growth can be unhealthy or pathological is rarely entertained by economists. And the goal of most national economists is to achieve unlimited growth of their GDP through the continuing accumulation of material goods and expansion of services. The over-expansion of financial services, in particular, is parasitic on the real economy and has led to the recent collapse. Since human needs are finite, but human greed is not, economic growth can usually be maintained by artificial creation of needs through advertising. And the goods that are produced and sold in this way are often unneeded and therefore they are essentially waste. Moreover, the pollution and depletion of natural resources generated by this enormous waste of unnecessary goods is exacerbated by the waste of energy and materials in inefficient production processes. In my view, the recognition of the fallacy of the conventional concept of economic growth is the first essential step in overcoming the current economic crisis. Most of what is called growth today, in fact, is waste, which means that we have an economics, an economy of largely waste and destruction. Let us instead call true growth that which enhances life through generation and regeneration and let us declare that this is what we need more of. And this is what I mean by qualitative growth. Growth that enhances the quality of life. In living organisms, ecosystems and societies, qualitative growth includes an increase of complexity, sophistication and maturity. And this focus on qualitative growth is fully consistent with the new scientific conception of life, which, as I've mentioned, is essentially a science of qualities. Let me just say a few words of this new concept of quality in science. The qualities of a complex system are properties of the system that none of its parts exhibit. Quantities, like a body's mass or like energy, tell us about the properties of the parts. So, when you have a body consisting, a system consisting of various parts, you can weigh all the parts and the total mass is the mass of the total system. Qualities, on the other hand, arise from processes and patterns of relationships among the parts. If I want to know whether I am healthy, I cannot add up the health of my fingers and my toes and my neck and my head and then the total will be my total health. No, because health is a consequence of relationships of components, of biological, of metabolic processes, of psychological processes, of interactions with the environment and so on. So, that's what I mean by quality. And therefore, we cannot understand the nature of complex systems such as organisms, societies, ecosystems or economies if we try to describe them in purely quantitative terms. Quantities can be measured. Qualities need to be measured. You have to be able to map the relationships among the various parts. So, that's a totally new science. And therefore, what we need to assess the health of an economy are qualitative indicators of poverty, health, equity, education and so on. None of which can be reduced to money coefficients or aggregated into a simple single number. Now, when you use such a systemic or qualitative approach to economics, you'll see very soon that economic inequality is a key characteristic of our worldwide economics. In recent years, the gap between the rich and the poor has grown significantly, both internationally and within countries. In the United States in particular, we have seen a systematic transfer of wealth from the poor to the rich. This growing economic inequality has been accompanied by growing imbalance of political power. As corruption has increased dramatically and the super rich have virtually taken over the American political system. And as you know, in recent weeks, they shut it down. These were a handful, a minority of Republicans in the House of Representatives on the far right, supported by two billionaire brothers called the Koch brothers. And these billionaires, together with these 40 far right Republicans, have managed to shut down the government. Now, during the past three or four years, people all over the world began to rise up and forcefully express their outrage about this economic and political inequality. The rapid spread of these popular and largely leaderless uprisings, from Cairo to Wall Street, from Istanbul to Rio de Janeiro, as well as their mutual declarations of solidarity, were guided by the vast array of social media that have become critical political tools for communities and organizations in our age of globalization. Instead of being organized around hierarchical structures with a centralized leadership, these protests are organized more like a global network. In fact, the protest actions themselves have become a form of social networking. People participate not so much to hear a message, but rather to take over a location and discuss their grievances. Now, the specific grievances vary from country to country, but they all share a central theme. The common understanding that in all those countries, the economic and political systems have failed and are fundamentally unfair. The Occupy movement in the United States identified the essence of this feeling with the brilliant slogan, We are the 99%. Let me now show you how the concept of qualitative growth can help resolve our economic crisis. When we study nature, we can see quite clearly that unlimited quantitative growth, as promoted so vigorously by economists and politicians, is unsustainable. An instructive example is the rapid growth of cancer cells, which does not recognize boundaries and, of course, is not sustainable because when the person with cancer dies, all the cells die also. Similarly, unlimited quantitative economic growth on a finite planet cannot be sustained. Qualitative economic growth, by contrast, can be sustainable if it involves a dynamic balance between growth, decline and recycling, and if it also includes the inner growth of learning and maturing. So how do we promote qualitative growth? Well, instead of assessing the state of the economy in terms of this crude quantitative measure of GDP, we need to distinguish between good growth and bad growth. And then increase the good growth and diminish the bad growth so that the natural and human resources tied up in those wasteful and unsound production processes can be freed and recycled as resources for efficient and sustainable processes. Now, I know that in Italy, in recent years, many people have promoted the idea of what they call decrescita or negative growth, an overall negative growth. And I think they make exactly the same mistake as the economists make, except with a minus sign instead of a plus sign, because to talk about an overall decrease is just as false as to talk about an overall continuous increase. The point is we need to qualify growth. The point is we need to qualify growth. We need to know which things should grow and which things should not grow. It's harmful to say everything should grow and it's harmful also to say everything should decrease. Now, from the ecological point of view, the distinction between good and bad growth is obvious. Bad growth is growth of production processes and services which externalize social and environmental costs, which are based on fossil fuels, involve toxic substances, increase economic inequality, deplete our natural resources, and degrade the Earth's ecosystems. All that is bad growth. And if you look at these characteristics, you see immediately that's most of the economic growth we have today. Good growth is growth of more efficient production processes and services that involve renewable energies, zero emissions, continual recycling of natural resources, support of local communities, and restoration of the Earth's ecosystems. Today, we have the knowledge and the technologies for a transition to a sustainable future. What is lacking is political will and leadership. Let me conclude then with a few comments on the kind of leadership we need. Leadership in a time of economic stability and ecological balance is quite different from leadership in a time of environmental and economic crisis, which we have today. In my view, understanding the systemic interconnectedness of our global problems and recognizing systemic solutions, in other words, systemic thinking, is the first necessary quality of leadership today. Our two most urgent problems are climate change and economic inequality. The systemic perspective shows that both are results of global economic and corporate structures that lack a moral compass. These are the words of the former Czech president, Vaclav Havel, who talked about a moral compass. Providing such a moral compass is, in my view, the second necessary quality of leadership today. Let me illustrate this with two examples. One reason why economic inequality is so bad for the economy is the following. When the poor receive money, either through jobs or through social services, what do they do with their money? Well, they spend it right away because they need a lot of things. So the money is recycled into the economy. The economy starts moving. And this was, in my view, the secret of the recent success of Brazil. In the last ten years, the Brazilian government has created a number of social programs where they gave cash to poor families. And these families, of course, spent the money right away on necessary goods and services. And so the economy started moving. In the United States, they do exactly the opposite. They take away services from the poor, give the money to the rich. Now, what do the rich do with their money? Well, they buy very little because they have most things already. So, for the rich, money is not so much a means to buy goods. It's a measure of power. They know exactly how much money they have vis-a-vis the others. And what they do with the money is mostly hide it in tax shelters as much as possible. There was a recent report published in the British Guardian which estimated that the so-called global rich may have as much as 32 trillion dollars stashed away in tax shelters. Imagine, 32 trillion dollars. Now, it doesn't take a mathematical genius to work out that if they paid their fair share of taxes, if they had a moral compass, only if they paid about 20%, 30% of taxes, there will be no economic crisis anywhere in the world. There is enough money. It's just stashed away in tax shelters. My second example concerns climate change. Climate science is now a well-established scientific field with unequivocal findings. Briefly, CO2 in the atmosphere has now passed 400 parts per million. And we need to stabilize it at 350 parts per million to avoid global climate collapse. This means we need to cut CO2 emissions by 80% by the year 2020. Now, an important figure is the absolute amount of CO2 we can still emit into the atmosphere and avoid climate collapse. That figure is a very large number. It is 565 so-called gigatons that are billion tons. 565 billion tons. It's a huge number, but it is only 20% of the carbon locked up in the proven oil and coal reserves which the fossil fuel companies list as their assets and plan to burn. In other words, to avoid global climate collapse, the fossil fuel companies need to keep 80% of their proven reserves in the ground. Instead, they are exploring how to increase their reserves. Absolutely crazy and suicidal. So, the question for the petroleum companies, the moral question is the following. Does your business model include destroying the planet by burning more than 20% of your reserves? Or are you working on an alternative business model and economic narrative guided by a moral compass? Well, in the time I have in this lecture, I cannot give you a detailed roadmap for moving from quantitative to qualitative growth and for finding solutions to the global crisis that are ecologically sustainable and socially just. However, I want to mention that together with a colleague of mine, Hazel Henderson, I have written a paper called Qualitative Growth. This paper is available on my website, which is my name, frityofcapra.net. And you are very lucky because there is also an Italian edition, Crescita Qualitativa. And it is published by Aboka. And the company Aboka were so kind as to make several hundred editions of this little booklet available, which you can pick up in the lobby. So that's a gift from me and from Aboka. Now, this paper contains some detailed suggestions and many references, which make it evident that the shift from quantitative to qualitative growth can steer countries from environmental destruction to ecological sustainability. This global transition to sustainability is no longer a technological nor conceptual problem. It is a problem of values and political will. It is an endeavor that transcends all our differences of nationality, culture or class. The earth is our common home and building a sustainable world for our children and for future generations is our common task. And with that, I thank you for your attention. Tante grazie. Tante grazie. Vi invito a preparare la vostra domanda, abbiamo dei microfoni che gireranno fra il pubblico, vi chiedo gentilmente di essere molto sintetici perché siamo in molti così riusciamo a far intervenire diverse persone, abbiamo circa una mezz'oretta che possiamo spendere per continuare a dialogare con il professor Capra e quindi basterà semplicemente che alziate la mano e arriverà il microfono per fare delle domande, vedo che ce n'è già una, chiedo solo un secondo per fare un annuncio perché c'è una signora che ha perso una tessera, Cestonaro Carmela, è una tessera di Venezia Unica, se per caso qualcuno l'avesse trovata, gentilmente ce la porta, la porta pure a me e gliela riconsegneremo. Scusate per questo dettaglio. Bene, allora possiamo, mi raccomando allora la sintesi, vediamo se ci sono già altre domande, magari ne raccogliamo più di una, ce n'è una qui al centro e qui un'altra. Allora facciamo tre domande insieme, it's ok? Allora ho avuto il piacere di scambiare due chiacchiere col professor Capra l'altra sera a cena e lo ringrazio della bellissima lezione che ci ha fatto oggi. La domanda è questa, ci lasceranno fare questa crescita qualitativa in Italia e in Europa o per caso in questa crescita qualitativa è previsto che gli africani che vengono dall'Africa e muoiono per strada sono un elemento della qualità europea? Ci serve quella mano d'opera a che livello? Chi sono i più disperati? Quelli che muoiono in macchina o quelli che arrivano da noi a mezzo euro l'ora a raccogliere i pomodori? Anche questo fa parte della qualità per i poteri forti che gestiscono l'Europa. L'incertezza mia è questa, dovremmo forse allearci, e lei può farlo meglio di noi, anche con quelli che vogliono la decrescita perché credo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda per rendere più tollerabile il nostro futuro. Grazie. Grazie mille, ne sentiamo, c'era un ragazzo qui al centro, se rialzi la mano... Eccomi qui, sì, dunque generalmente la teoria dominante economica ci dice che per quanto riguarda l'ambiente noi stiamo procedendo bene, nel senso che ci raccontano che dal momento che c'è più crescita c'è anche più tecnologia e quindi l'inquinamento aumenta sì in termini assoluti, però diminuisce relativamente, nel senso che siamo più efficienti. Vorrei sapere l'opinione del professore al riguardo. Lei parla inoltre anche di disuguiglianza economica come un male. Io sono d'accordo con lei, però vorrei sapere, dal momento che molti studi suggeriscono che la felicità deriva dalla posizione, dalla ricchezza diciamo relativa agli altri, forse dovremmo cambiare più i nostri valori piuttosto che direttamente l'economia, cioè è un riflesso quello forse, diciamo l'economia è un riflesso di ciò che noi siamo, no? Grazie, un ultimo. Let me first responde to the last question. I think you're wrong that studies suggest that economic wealth increases happiness. In fact, you know, among CEOs and top managers and rich people, there are many drug addicts, there's violent behavior, for instance, domestic violence, all kinds of social illnesses, clearly more money, you know, doesn't make people happy. There are indicators that, for instance, in a tiny country like Ladakh, between India and Tibet, people who live in a rural Buddhist society are generally much happier than people in industrial countries. And you may also have heard that in Bhutan, and you may also have heard that in Bhutan they have now started to measure an index of gross national happiness rather than gross national product. So I think we need to be careful with these statistics. Now, the other question was, should we make an alliance with the people who promote negative growth, the crescita? And I think absolutely yes. I think if we can just educate ourselves and educate this movement that already exists and show them that what we really need is qualitative growth, which is negative growth, which is negative growth at times, maybe most of the time, but not always. And certainly the poor people who come by boat from Africa or other countries, they don't need the crescita, you know, they need the basic means to survive. So this is what we need. We mean by qualitative growth, growth where the basic goods are provided for. So yes, by all means, make an alliance with the crescita movement. I recently just by chance saw a video of a concert that happened two years ago by Adriano Celentano, who was one of my heroes when I was 16 years old. And he not only has still a very good voice, he's one year older than I, but also he talked about the crescita in a very serious, passionate way. Now, if we can convince him, you know, to talk about qualitative growth, it would have a big impact. So by all means, let's make coalitions. Allora, qui ce n'è uno e qui ce n'è uno e due. C'era qualcuno al centro prima che ho saltato, non so se con gli occhiali aveva alzato la mano. Eccoli qua. Dopo? Va bene. Allora, veniamo dalla camicia azzurra, scusate se vi indico. Qui abbiamo un'altra domanda e ce ne sono tantissime. Molto sintetiche. Vorrei ringraziare il professor Capra perché io i suoi libri li uso a scuola, in una scuola primaria. E così ci vuole dire nome e se vuole dirci cosa fa? Flavio Cagnato, faccio il maestro alla scuola primaria. Ok, grazie. E credo che i suoi libri sono di un'utilità eccezionale, dovrebbero essere portati come strumenti di formazione oggi in tutte le scuole, come queste conferenze. E credo, vorrei dire una cosa, che noi oggi facciamo in tutte le scuole, si fanno delle attività di attenzione rispetto ai consumi. Domanda. Credo però che non basti semplicemente questa attività di attenzione, di risparmio. Credo che nella scuola vada incentivata, incrementata la formazione culturale, cioè un percorso verso la riscoperta di un'etica del senso del limite, di un pensiero sistemico appunto, che ci faccia ricomprendere, che facciamo tutti parte dello stesso mondo e che è solo riscoprendo questo pensiero che potremo veramente camminare verso questa strada di crescita qualitativa. Grazie. Grazie, era un commento, vi ho una domanda. In fondo, sì, prego. Diciamo una alla volta allora, ma sintetici. Sì, volevo chiedere al professor Capra se per la crescita qualitativa sia indispensabile, se lui ritiene indispensabile, è dover esserci un cambio di paradigma monetario, quindi più che una riforma monetaria, una rivoluzione monetaria, e se ha un'idea già precisa al riguardo. E in questo senso vorrei chiedergli la sua idea su un paio di suggestioni, sul fatto di considerare la moneta un bene comune, libero dal debito, e alla base di una crescita qualitativa il reddito di esistenza per tutti e per sempre. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono uno studente dell'Università di Padova e volevo fare una domanda che può sembrare banale, che sicuramente richiede una risposta impegnativa. Cos'è per il professor Capra la felicità? Lei prima ha parlato di alcuni paesi asiatici che nonostante siano più poveri rispetto a paesi come l'Italia, siano più felici rispetto a noi. Cos'è per lei la felicità? Grazie. You're completely right. This would require a long answer. And I always say this when I don't have an answer. So I don't really know the answer, but it's something I think would be well worth exploring. I think, I don't know what faculty you're in, but there's a thesis in there. You could write a thesis about this, because, you know, this has not been, obviously many philosophers have talked about happiness, but to see it from our modern point of view, from a systemic point of view. You know, I have spent 30 years exploring the question what is life. You could do this with the question what is happiness. So I wish you good luck. Un bel augurio. Allora, avevamo sempre i primi due che ho abbandonato. Allora facciamo, qui ce ne sono, prima il signore con gli occhiali e con una giacca blu, poi abbiamo l'altro signore con gli occhiali, poi andiamo lì, poi veniamo lì, poi andiamo lì. Ho dato un po' di indicazioni. Buonasera. Eccolo lì, perfetto. Aiutate le nostre hostess che ringraziamo. Prego. La mia questione riguarda la vita delle idee. Sono passati oltre 25 anni che il professor Capra scrisse un libro che si chiamava The Turning Point, Il punto di svolta, che era un bilancio di un processo di idee che già erano partite nei due decenni precedenti, cioè dagli anni 60. Ecco, quindi oggi è possibile fare un bilancio di quasi mezzo secolo di questo percorso di idee che ha, che il professor Capra ci ha traghettato. Ecco, questo bilancio è positivo o negativo? Cioè queste idee sono cresciute o hanno passato un momento di oblio, di dimenticazione? Grazie. Grazie a tutti. interesting question the life of ideas and other thesis but here here I can actually answer when I wrote my book the turning point in beginning of the 80s I had a certain vision and it was the first attempt of a systemic vision and in the book I sort of predicted the green movement the green political parties actually on the last page of the book and they happened then in the 1980s and I think around the year 1989 we were about at the same place as we are today and what happened in the meantime I did not foresee and nobody else foresaw and that was the information technology revolution which created not only the internet and interlinked social movements but also this new type of capitalism and it brought with it a new type of materialism that I have described in the lecture so I think now we have come sort of in a circle but the alternative movements are now much better organized because we have a worldwide network of NGOs and we have all the new social media but and the the other forces of course have also grown so we are again at a critical point now I have it was a great thrill for me to go through all my books and see what is still valid and this is what I put into the textbook that I wrote in the last five years so if you look at that you have the really updated version of all this life of these ideas Francesca scusami c'è una domanda per il professore che arriva da twitter sono qui Francesca Roberto scusami allora sì abbiamo naturalmente Roberto Fioretto collegato in diretta sui social media quindi c'è una domanda molto interessante per il professore e la fa Maurizio Pirazzini e dice professore per favore può dirci tre cose che possiamo fare in concreto per agevolare la crescita qualitativa grazie grazie ringraziamo anche tutti coloro che ci stanno seguendo sui social network e vi invitiamo a continuare a partecipare alla discussione grazie al can think about two things immediately I'm not sure whether I can think about three things immediately but two things well ok let's call it three things first try to really understand what I said maybe also read this little booklet published by avuca crescita qualitativa first try to really understand it Maurizio second put whatever comment you want into your twitter account or on your facebook third when you get responses interlink with people and form a kind of network to discuss these ideas further because fundamental social change only happens when there are lots of groups and lots of networks discussing these ideas so those are the three things and thank you so much for this very practical question approfitto per ricordarvi che c'è questo libricino a disposizione gratuito sulla crescita qualitativa non ce ne sarà per tutti perché l'edizione abbiamo non così tante copie come siete tutti voi ma insomma speriamo che lo possiate ritrovare presto in qualche altra situazione ringraziamo l'aboca per questo abbiamo questo ragazzo qui sì e poi veniamo sulla stessa fila io volevo fare una domanda ecco adesso ho provocato la fuga alla caccia del libretto spero di no dicendo questa cosa professoresso tutti vanno a prendere spero non sia non sia dovuto a questo scusate volevo fare una domanda riguardo il tau della fisica spero di non essere troppo fuori argomento adesso ma ricollego un po' al precedente intervento mi chiedevo se lei dovesse scrivere il tau della fisica oggi nel 2013 a distanza di più di 30 anni di scoperte progressi nel campo della fisica delle particelle lei arriverebbe alle stesse conclusioni partendo dai dati scientifici che ci sono stati oppure cambierebbe qualcosa di sostanziale nella sua visione grazie 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 rewrote the tau physics today i would of course update the physics because there's nothing about string theory in the tau physics and things like that or the Higgs boson and things like that but my basic thesis does not change none of these new discoveries invalidated anything I said because the interconnectedness the network of subatomic particles you know remains the same and in fact maybe these these new discoveries I'm thinking especially about the Higgs boson really enhances my argument but what I would do is I would say the connections with eastern philosophies and mystical traditions are not only to be found with physics but also with the other sciences with biology with psychology with many other sciences Francesca c'è un'altra c'è un'altra domanda e questa volta arriva da facebook e la fa Carlo Pellegrino e chiede al professore se gli è mai capitato di avere alle sue conferenze o alle sue elezioni magistrali degli uomini di potere o degli uomini politici e soprattutto se gli è capitato poi di interloquire di discutere con loro di queste tematiche immagino che Carlo voglia sapere poi quali sono stati i commenti di queste persone politiche o persone di potere come appunto le definisce Carlo grazie leadership politica fondamentale di queste lezioni lezioni di lezioni di e durante l'administrazione di Presidente Lula, che è stato 8 anni dal 2003, ho metto la ministra per l'environamento, Marina Silva, e ho organizato un simposio di tre giorni con lei in la capital, Brasilia, dove ho invitato ecologisti e sistemici pensieri dell'Europa e dell'Università. E abbiamo avuto tre giorni di discussioni molto entusiasti. Quindi credo che il Brasil e l'India, in India ho anche scoperto dei politici che erano molto simpatici con quello che ero dicendo, ma in altri paesi non ho avuto tanto successo. Eccomi, scusate. Siamo qui che aspettavano... Dietro di lei, facciamo prima perché aveva alzato la mano da un pochino. Prego, ci vuole dire il suo nome. Io sono, mi chiamo Maurizio Adeste. La domanda che voglio fare è che mi sembra che non sia stato presente nella sua presentazione una componente molto importante, che sono i media, la comunicazione. Io non so la realtà, io so una rappresentazione della realtà e la prendo per buona. Penso di poter avere una conoscenza perché cerco di discernere, ma in realtà discerno tra voci che non sono direttamente. la fortuna di sentire stasera, quindi per me è molto importante, ma normalmente non l'avevo conosciuta, non l'avevo sentita, non ero venuta a conoscenza. In realtà la comunicazione è fondamentale, perché se la comunicazione mi dice che il fumo libera i polmoni, come lo dicevano, come c'erano i minenti professori, la gente ha creduto che il fumo facesse bene. La comunicazione è parte del problema e può essere parte della soluzione. Grazie. Il ruolo della comunicazione. Grazie. Grazie. Sì, non parlavo di comunicazione, ma solo perché in un'ora devi lasciare molti cose. Nel mio libro, The Hidden Connections, che è anche pubblicato in Italia, ho un'ora di comunicazione, e lo che ho dicendo è che oggi abbiamo molti livelli di comunicazione. Come abbiamo visto da questi due questioni che sono arrivati via Twitter, che è un nuovo formato, all'interno social media è un nuovo formato di comunicazione. e ci sono già giornalisti, che sono raggiunti con loro cell phone, che filmi cose che succedono in le strade, e distribuiscono la informazione molto più più veloce che il tradizionale media. So we cannot only be critical of what we hear through the media, but we can also choose the media we select for our information based on trust we have we build up over time. So for instance, to take me as an example, in the United States, I don't watch television for news. That's absolutely useless because you get the corporate feed, the corporate conditioning. I don't read very many newspapers either. I read some, but I read European newspapers, which have much better information about American politics than American newspapers. For instance, Le Monde, The Guardian. And most of my information comes from various websites. I regularly go to various websites that have collections of good articles from authors I know and respect. So I am very selective with where I get the news from. And we all can do this today. There's a vast array of media we can choose from. Prima di raccogliere la prossima domanda, vedo che ce ne sono ancora molte, un'altra informazione, non affrettatevi ad uscire perché il pamphlet del professore non è ancora in distribuzione. Quindi lo dico per quelli che sono lì che dicono vado o non vado. E in più è scaricabile dal sito internet del professore, quindi ce n'è per tutti. La bocca gentilmente ne ha messi a disposizione, ma li daremo più tardi. E ci sono qualche centinaia. Sì, sì, ce ne sono parecchi, ce ne sono diverse centinaia, ma siccome siete molti, un'altra cosa voglio dire è che al professore fa piacere firmare i vostri libri, se li avete, o libri che eventualmente potete, credo ci siano a disposizione anche, giusto? Centinaia no. Non centinaia, quindi che non provochiamo un'altra apocalisse, qualche libro. Chi vorrà farlo? Detto questo possiamo proseguire perché vedo che vi fa piacere. Arriverò lì un attimo, ma ho questa persona qui, porta pazienza. Qui, in questa fila qui avevo qualcuno, ben due persone. Forse prima dietro, decidete voi fra voi due. Vai. Dunque, io innanzitutto vorrei ringraziare il professor Capra per aver ampliato la mia visione della realtà attraverso il suo libro Il Tao della Fisica. E poi volevo fare una domanda. Secondo me, il maggior danno comportato dalla crisi economica internazionale è stato lo spostamento del focus dalla cultura, nel senso più ampio, all'economia, all'attenzione solo attraverso il dio denaro. Secondo il professor Capra, come si può tornare all'attenzione nei confronti della cultura, ad una cultura che, al di là della critica, sappia anche inventare? Grazie. Grazie a te. Grazie a te. Grazie a te. antidote. Because when you have qualitative indicators, you have indicators of literacy, of education, of poverty, of environmental health, of well-being. Those are all cultural, social indicators. So this broad palette of indicators goes a long way to reverse the shift to just economic terms. Grazie, mi chiamo Francesco. Volevo domandare, da un punto di vista pratico e politico, come si arriva a questo cambiamento qualitativo, come si arriverà presumibilmente? Nel senso, lo devono fare i singoli stati, anche se piccoli, come l'Italia per esempio, con il rischio di essere poi tagliati fuori dall'economia internazionale, oppure è qualcosa che deve avvenire a livello internazionale da parte di qualche organismo sovranazionale o globale, che però attualmente non c'è con un potere adeguato per portare il cambiamento. Quindi, come si risolve questo problema di da dove partire, dai singoli stati o da una cooperazione tra stati? Grazie. Grazie. In my view, the change has to happen from the bottom, not from the top. And so I would suggest, as I did already in answer to one question, to form networks, to form coalitions with the de crescita movement to promote these ideas. And the proof that this works was given in Italy many years ago. Maybe you are too young to remember that, but I remember the so-called Italian miracle in economics, where you had a cottage economics in various regions producing various things that often worked in officially and contributed to the overall wealth of Italy. This was long before Berlusconi. So I think that shows that working from the bottom with networking can be successful. Eventually, of course, this will have to be formalized in the international agreements. Prego, vai. La mia domanda è di natura tecnica. In che modo vengono poste le deadlines ecologiche e in che modo possono essere così, come sentiamo sempre più spesso parlare, a breve termine, pur tenendo in considerazione la grandissima varietà di elementi che vanno a comporre un sistema come la biosfera. In altre parole, abbiamo davvero così poco tempo. Well, the ecology, and in particular climate science, are very difficult because we're dealing with highly nonlinear systems. And the modeling is very difficult. However, I have studied climate science now for some years and I noticed that they were able to make quite precise predictions and models. But here I would have to talk more about complexity theory. The type of prediction we can make is not that a hurricane will happen on such and such a day in such and such a place. The type of predictions we can make is hurricanes will become more frequent and more intense. And that can be derived from the basic of climate science. And that can be derived from the basics of climate science. So just to give you, if you give me one minute, I'll give one example which I describe in my textbook. They have discovered that the warming of the Arctic diverts the Gulf Stream, not the Gulf Stream, the currents, the air currents that circle the earth. These jet streams that are called, these jet streams don't go straight around the earth but meander because of the mountains. And the warming of the Arctic increases the meanders. And it also slows them down. So the jet stream is a frontier between cold air in the north and hot air in the south. So if there are big meanders, that means cold air is pulled to the south and warm air can be pulled to the north. And furthermore, this can be stuck for many weeks. And this is exactly what we have observed. So that's one of the big successes of climate science. But it is, it is a very difficult science. This is, it is a very difficult science. This is a very difficult science. This man waiting for you. And this woman here, please. This man here, it is a little bit. Good morning, I'm Scrocaro Paolo, of the Association Ecofilosofica. e ringrazio il professor Capra che forse si ricorderà abbiamo collaborato su qualcosina a suo tempo e concordo con quasi tutto quello che lei ha detto vorrei rassicurarla su un punto quello che riguarda la questione decrescita rispetto alla quale peraltro lei si è dimostrato molto aperto ecco io vorrei sottolineare che non credo che il concetto di decrescita sia così distante dal concetto di crescita qualitativa come lei l'ha esposto questa sera perché certamente il termine decrescita è respingente e talvolta soprattutto nei media viene alquanto semplificato e volgarizzato ma in realtà decrescita non significa un interesse o un volere la diminuzione del PIL ma semplicemente si fa un ragionamento molto diverso e cioè si resta indifferenti rispetto alla crescita o alla diminuzione del PIL perché siamo in presenza di una contabilità profondamente errata come lei stessa ha sottolineato e cioè che il PIL cresca o diminuisca questo non significa necessariamente che a ciò si accompagni un aumento del benessere o una diminuzione di benessere perciò la decrescita resta come dire estranea rispetto a questo problema che assilla invece gli economisti della crescita quantitativa. Da resto negli Stati Uniti l'economista ecologico Herman Dely ha dimostrato molto bene che oggi come oggi nelle società sviluppate noi possiamo incrementare la crescita dal lato quantitativo certamente possiamo farlo ma nella società complessa questo sforzo comporta dei costi sociali e ambientali così forti per cui gli eventuali benefici vengono pareggiati o più spesso superati dagli svantaggi per cui è evidente che come dice anche lei non possiamo continuare su questa strada della crescita quantitativa e dell'ossessione per il PIL e questo è esattamente anche uno dei tratti fondamentali del pensiero della decrescita per cui auspico anch'io che si instauri una buona collaborazione tra i sostenitori della decrescita e i sostenitori come lei della crescita qualitativa. Grazie. Grazie Grazie I'm very happy to hear that we are closer in our views than I thought and I remember this interview very well I liked it very much I didn't like my picture very much it was very out of focus but I liked the interview very much Grazie. Secondo lei, o ha già scritto qualcosa in merito, Johnny Schiavo, artista. I have a personal theory, which I have not published, but I'll tell you what it is, of life in other parts of the universe. If these other cultures are much higher involved than we are, what will they do? They will live sustainable, they will plant their bio-tomatoes and eat them, they will have a very happy society, and they will not try to send rockets or other things into outer space to communicate with us. Il tempo comincia a stringere, là in fondo non ero più tornata, giusto? Rossa, maglia rossa? No, dietro di te in realtà. Ho spazio per due o tre domande, e poi sicuramente arrivo qui davanti. Allora facciamo quelle due e qui davanti. Vi chiedo, se siete veramente sintetici ce ne sta qualcun'altra, ma il tempo ormai comincia a stringere. Prego, prego. Sorry, can I speak? E poi il ragazzo con la maglia rossa, poi qui davanti la signora. Sorry, Professor Capra. How can a person be free enough to think about the quality of change, while the economical system is deeply inside the educational system, too? How we can change the barriers, the things that can't help enough us to deploy this quality of system? Just your opinion about this. To be more prices, even when we see people who don't speak some languages, it's a cultural barrier. And we had information in our system, the educational system, that takes many years and many times to be deployed in the future. So it's an investment. All the people and the political systems, economical systems, invest in us. Well, I will just invite you to go to the website of the Center for Ecoliteracy. That's exactly what we're doing. It is ecoliteracy.org. And you find lots of publications, lots of information. Thank you for your question. Thank you. Absolutely. I spent 10 years reading Leonardo's famous notebooks, and I found that not only that he developed the scientific method, the empirical method, 100 years before Galileo, but also that he created a science which is very much based on systemic thinking and on qualities. So I would love to tell you more, but if I start talking about Leonardo, I don't end and we will miss dinner. So that's for another lecture. Ok, brevemente. Ecco qua. Prego. Qui, velocemente. Il calcolo, la furbizia e l'inganno fanno parte della vita dell'uomo da sempre. E questa situazione, il calcolo, la furbizia e l'inganno inevitabilmente porta al potere. Chi ha il potere vuole ancora più potere. L'idea mi dà che sia questa la questione che porta ingiustizia e non porta certamente la felicità. Quindi potere significa egoismo. Non sarebbe quindi, vista la situazione mondiale, di poter pensare, di poter cambiare dal potere egoico, insegnare il potere armonico. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. in a network so for example when this I suppose young man Maurizio called via Twitter I suggested he should network he should put the idea of qualitative growth on his Facebook and should network with other people and it could be that he has 2,000 responses in a very short time well that's power but he doesn't need to dominate anybody just to empower others by networking that's what you call harmonious power I think that's very close il ragazzo con la maglia rossa voleva fare una domanda o no allora il ragazzo poi qui prima sera la signora con la maglia viola e allora vengo qui un secondo vengo qui un secondo perché stava aspettando anche lui un attimo buonasera professore per l'occasione ho riletto la il libro la rete della vita e mi sono fatto una convinzione che se la vita è quella del libro il primo passo che forse come specie umana dovremmo fare quello di ammettere con umiltà che dobbiamo cambiare non per salvare la vita nel mondo ma per salvare la nostra specie lei cosa ne pensa grazie ja i agree completely and and in addition we should learn from nature as much as possible our attitude should not be how we can exploit nature and extract things from it but how we can learn from nature and cooperate with her and that by the way was exactly the attitude of Leonardo da Vinci, ho scoperto Leonardo l'ecologista e Leonardo l'ecodesigner, e possiamo essere molto inspiro da lui. Vorrei chiederle un parere riguardo a una questione. Nel sistema di istruzione italiano e anche altri sistemi, alle elementari, alle medie e alle scuole superiori, viene insegnata la storia, la geografia, il latino, la matematica, la fisica, materie molto importanti, ma mi chiedo fino a che punto sia importante che i bambini imparino quando è stata scoperta l'America, piuttosto che ai bambini fin dall'infanzia non venga messo il germe dei principi etici per creare uno sviluppo sostenibile. Grazie. Well, again, I can just repeat what I already said twice. That's exactly what we're doing with our eco-literacy schools. Because we have a school garden where the children learn ecology out in nature by growing a garden, harvesting the fruits and vegetables, by cooking. And you can do this, you can teach all the other subjects. When you do cooking in a school kitchen, you can teach about geography, you can teach about history, all surrounding food. There's a whole history about food, about spices, and you can also teach about when America was so-called discovered. There were lots of people there already, but they usually don't say that. so we can teach things within an ecological context. And when you do this out in nature, the ecological context also becomes an ethical context. So I would encourage you to go to our website and learn more. Ultime due domande, la signora in fondo e poi questa ultima signora. Ultima, la terza volta. Eh sì, è vero, ma continuano, se no ci fermiamo con quest'ultima. Ce la fa professore? Sì, sì. Sì, ok. Prego. Una domanda da fare. Le religioni mondiali che senso hanno in tutto questo contesto? Hanno un valore? Grazie. Well, this again would be a whole lecture. I don't want to just do advertising, but I can tell you that in the forthcoming textbook there's a whole chapter about this question. It's about spirituality and science and the difference between spirituality and religion. What happened in the history of religions was you had one or several persons that had a very special experience of reality which is often called a religious experience or a mystical experience or a spiritual experience and then they wanted to communicate this and created rituals, created a sense of ethics and created organizations that became the religions. and what often happened was religions then forgot about the spiritual core and were more interested in power. Just like corporations forget about their mission, their original mission and are interested in growth and power. So, but this is a very long story and I do have a whole chapter in the textbook about it. Thank you. Bene professore fermiamoci qui noi la ringraziamo di cuore a nome della fondazione Cassa di Risparmio Thank you. Grazie. Ringraziamo voi che siete stato un meraviglioso pubblico il pubblico di Segnavie che sempre partecipa con grande entusiasmo e anche con ottime domande molto sintetiche di questo mi complimento. grazie a tutti ci vediamo il 15 novembre con il prossimo appuntamento al centro congressi Padova. Grazie. Grazie per la...